video ripresa 4k 30 fps con google pixel 4a smartphone economico ma dalle buonissime prestazioni siamo in quel di bernate ticino dove abita il nostro carissimo amico raffaele poi quando rientro seguirà una bella grigliata devo dire oggi giornata stupenda speriamo regga si sa anche bene ottima temperatura proviamo a zoomare ma devo dire niente male siamo a 5x fotocamera principale stabilizzata da 12 megapixel ok ok